Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. La rinascita di Sonia Bruganelli, una donna forte dopo la separazione da Bonolis. La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata uno dei colpi più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano, ma la loro storia non si è conclusa con un punto, ma con una virgola. Sonia, in una recente intervista a Verissimo, ha svelato i dettagli di questa transizione, rivelandosi come una donna forte che sta vivendo una rinascita personale e professionale dopo la fine del suo lungo matrimonio, un'amicizia profonda dopo la separazione. Sonia Bruganelli ha sottolineato come, nonostante la separazione, lei e Paolo Bonolis abbiano mantenuto un legame quotidiano e profondo. Questa continua vicinanza può sembrare strana agli occhi di molti, ma Sonia lo spiega chiaramente, abbiamo una famiglia, cresciamo i nostri figli insieme, io non ho un nuovo compagno, lui non ha una nuova compagna, quindi è normale continuare a starci vicino, soprattutto per i figli. Questo è un aspetto importante della loro relazione post-matrimoniale. Nonostante abbiano intrapreso strade diverse, rimangono uniti per il bene dei loro figli e continuano a sostenersi a vicenda come amici e genitori. Questo atteggiamento maturo è una testimonianza della loro maturità e dell'importanza che attribuiscono alla costruzione di un ambiente familiare sano. La decisione della separazione. Sonia Bruganelli ha condiviso le motivazioni che l'hanno portata a intraprendere questo percorso di separazione dopo un lungo matrimonio. Ha enfatizzato che questa decisione è stata guidata dalla necessità di libertà, non solo in termini di relazioni romantiche ma anche di esplorazione personale. Ha spiegato, la libertà è anche poter dire alla persona che ho accanto che non ho più piacere di vivere momenti romantici, che ho voglia di conoscere di più, lavorare di più, viaggiare di più. Magari lui è in un periodo diverso della sua vita. Mi sono sentita libera di dirgli a quale punto ero. Questo processo di cambiamento e crescita individuale è stato fondamentale per entrambi. Ha permesso loro di onorare i loro sentimenti e le loro aspirazioni personali. Sonia ha riconosciuto che Paolo Bonolis è stato rispettoso e comprensivo di questa sua esigenza di libertà. La verità su alcuni pseudo-amici. Dopo la separazione, Sonia Bruganelli ha scoperto che alcune persone che considerava amiche avevano cercato di far divertire Paolo Bonolis, portando gli amiche. Questo ha suscitato una reazione interessante da parte di Sonia. Lei ha sottolineato che Paolo è sempre stato rispettoso e che queste persone hanno solo rivelato la loro vera natura. Ha chiarito, perché lui ti ama le fa notare Silvia Toffanin, e Sonia risponde senza esitazione. Anche io lo amo davvero, altrimenti non mi chiamerebbe. Lo facciamo reciprocamente perché siamo cresciuti insieme. Un futuro incerto, ma un legame indissolubile. Nonostante la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno mantenuto un legame forte e indissolubile. Sonia ammette che non esclude la possibilità di provare gelosia se Paolo dovesse innamorarsi di qualcun altro, ma sottolinea che finora nessuno dei due ha trovato un nuovo amore. La loro connessione sembra oltrepassare la dimensione terrena. Come Sonia afferma, in questi mesi l'ho sempre avuto qui, qualsiasi cosa ho scelto mi giravo e stava sempre là. Come ci si separa da un'anima? Ci si può separare da un corpo, ma da un'anima non ci si separa mai. La storia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è un esempio di come una separazione possa portare a nuovi inizi e crescita personale. Nonostante abbiano seguito strade diverse, il loro profondo affetto e rispetto reciproco rimangono costanti, mentre entrambi cercano di costruire nuove vite separate ma intrecciate. Sonia Bruganelli è una personalità televisiva italiana con una carriera che spazia tra il giornalismo e la conduzione televisiva. Nata il 21 giugno 1974 a Milan, Italia, ha guadagnato notorietà soprattutto per la sua collaborazione con il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis. Ecco una panoramica della sua carriera. Sonia Bruganelli ha iniziato la sua carriera nel mondo del giornalismo, contribuendo come giornalista e conduttrice a diverse trasmissioni televisive locali. Questa esperienza le ha permesso di acquisire competenze nel campo dei media e di costruire la sua carriera in questo settore. Sonia Bruganelli è diventata nota al grande pubblico soprattutto per il suo matrimonio con il famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis. Questa unione ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, facendo di Sonia un personaggio popolare nella scena dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio ha avuto luogo nel 1998 e ha prodotto tre figli. Sonia Bruganelli ha partecipato a vari programmi televisivi, spesso affiancando il marito Paolo Bonolis. La sua presenza in questi spettacoli le ha permesso di consolidare la sua visibilità e di farsi conoscere dal pubblico televisivo italiano. Ha dimostrato un grande carisma e una presenza affascinante sullo schermo. Nel 2023, Sonia Bruganelli ha annunciato la sua separazione da Paolo Bonolis dopo 25 anni di matrimonio. Questa notizia ha suscitato un grande interesse mediatico e ha portato alla luce dettagli della loro relazione e delle motivazioni alla base della separazione. Nonostante la fine del loro matrimonio, Sonia e Paolo rimangono vicini per il bene dei loro figli e continuano a sostenersi reciprocamente. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha continuato la sua carriera televisiva in modo indipendente. Ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, pronta ad affrontare nuove sfide nella sua vita personale e professionale. La carriera di Sonia Bruganelli è un esempio di come la sua presenza nei media italiani sia diventata parte integrante della cultura popolare. Ha affrontato con coraggio e dignità le sfide della vita e continua a essere una figura riconoscibile nella televisione italiana. La sua futura carriera è ancora in evoluzione, e il pubblico sarà certamente curioso di vedere dove la sua passione per i media la porterà in seguito. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.